ognuno di noi è in quota parte mentre le nostre nonne hanno chiesto di essere eroi andando al fronte e combattendo la seconda guerra mondiale a noi ci si chiede qualcosa di più semplice siamo eroi se riusciamo a rimanere a casa e ad avere un comportamento paziente responsabile e rigoroso non serve molto ma questo è il momento in cui dobbiamo dimostrare di essere di essere persone pace di guardare al futuro è questo l'accorato appello lanciato al sindaco di ercolano ciro buonaiuto in collegamento nel nostro approfondimento il primo cittadino ha parlato delle difficoltà che sta vivendo il comune soprattutto per venire incontro alle esigenze sociali ed economiche delle fasce più deboli della popolazione al comune si rivolgono tutti si rivolge chi è malato e non riesce a avere un contatto con l'ase si rivolge chi è in attesa del tampone si rivolge chi sta benissimo e semplicemente vuole uscire perché è sintomatico si rivolge si rivolge ai servizi sociali chi è in difficoltà e soprattutto si rivolge ai servizi sociali una nuova categoria quella dei nuovi poveri coloro che sono stati costretti a chiudere le proprie attività al comune si rivolgono tutti ma il comune però ha poche soluzioni le faccio un esempio quando l'asl non risponde i familiari di colui che è contagiato tocchiamo nel sindaco quasi come se fosse il segretario del dettore dell'asl problematiche che riguardano anche i controlli da eseguire su tutto il territorio cittadino noi abbiamo a disposizione pochissimi vigi urbani così come tutte le altre città e facciamo i salti mortali c'è una pattuglia che gira che controlla i negozianti che fanno i furbi ma giusto per garantire i negozianti più onesti cerchiamo di riproverare sensibilizzare i ragazzi che magari stanno per strada senza mascherina ma la verità è che noi non dobbiamo affidarci ai controlli è troppo facile dire che ci vogliono più controlli la verità è che ci vuole più responsabilità la preoccupazione maggiore riguarda una possibile apertura per natale con un conseguente alleggerimento delle misure di prevenzione se a natale poi riapriamo tutto e iniziamo a fare gli aperitivi fuori bar come siamo abituati a fare come abbiamo abituato a fare la curva possa impennarsi io credo che noi per tornare alla normalità dobbiamo aspettare qualche mese e dobbiamo avere pazienza la richiesta che il primo cittadino lancia al governo è quella di fornire presto i sindaci di misure adeguate a fronteggiare la crisi socio economica affidare ai sindaci la possibilità di sfamare perché di questo parliamo di sfamare le famiglie povere potrebbe essere un primo segnale di di serenità mi auguro che al più presto ci daranno quest'inconvenza che io sarò orgoglioso di portare sulle spalle